Le associazioni di categoria e i sindacati hanno promosso e organizzato a Palermo per il prossimo 7 novembre una mobilitazione regionale con chiusura delle attività. La manifestazione, che andrà in scena in concomitanza con lo seduto e insediamento dell'Assemblea regionale siciliana, è volta a contestare l'eccessivo rincaro dei costi energetici e delle materie prime, con conseguente aumento dell'inflazione. I vertici regionali di tutte le sigle aderenti, facendosi interpreti del forte disagio e della profonda emergenza che stanno investendo il già fragile tessuto socioproduttivo ai territori, hanno espresso grande preoccupazione per la tenuta economica in presenza di una situazione divenuta ormai insostenibile. Il giorno 7 saremo tutti a Palermo, tutti uniti, per la prima volta in Sicilia, tutte le associazioni datoriali compatte su un unico tema, il caro energia. Anche perché siamo costretti, in questi giorni, in queste ore continuano a chiudere attività commerciali per morosità sulle bollette dell'energia elettrica che ne arriva a 30.000. Quello che sta succedendo sono i distacchi, tra l'altro. Infatti abbiamo tutti assieme prodotto un documento che abbiamo inviato al Governo regionale e al Governo nazionale, l'abbiamo fatto nostro, tutte le associazioni assieme, dove chiediamo per la prima cosa di inserire immediatamente un tetto all'energia, permettere la reteizzazione per un anno delle bollette preesistenti, l'abbattimento del costo all'energia anche sotto forma del credito imposto invece del 30% al 50% e tutte quelle azioni necessarie a permettere la sopravvivenza del terziario e delle industrie in questo territorio. Noi oggi siamo ormai arrivati alla chiusura delle attività che hanno già cominciato a licenziare e a chiudere. Intanto Trainito torna sulla situazione gelese, dove solo nel centro storico sono oltre il 60% delle attività che negli ultimi mesi hanno chiuso i battenti, molte sono quelle che operano nel settore food. Il problema più grande è quello legato all'energia, naturalmente si somma i problemi precedenti che abbiamo avuto col Covid, la mancanza di personale, noi abbiamo moltissimi dei ristoranti che ormai a pranzo non aprono e aprono solo alla fine settimana, tutto questo porta a disoccupazione perché tutte le persone che si trovavano a tempo pieno a lavorare oggi non lavorano più, se il Governo non interviene oggi stesso sul problema energia non sappiamo quale catastrofe ci aspetta.